bravissimo tigre molto bene di casa scusami ops no, dall'altra parte no, dall'altra parte ancora 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 eccola eccola lì lì ancora da capo bravo ti ha posto dei bambini ops piano piano eccola da su bravo Uotra, questo non è un uotra quello, si come si dice in inglese, well, ottimo, from the base. Sai che ho provato a fare questa difficilissima? Questa è un po' difficile, prova a spingere allora la, esatto, rifarla. Questa era venuta un po' struttignacola. I'm good at the castle. Ciao.